Eddie Schlein era il nuovo segretario del Partito Democratico, un Partito Democratico distinto e distante da quello che avevamo fondato, che metteva insieme culture politiche diverse, dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari, la Margherita. Oggi, legittimamente, diviene un partito di sinistra, che nulla ha a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e con la nostra tradizione. Per questo abbiamo dato vita a un nuovo network dei cattolici e democratici, piattaforma popolare Tempi Nuovi, per farla diventare la casa di tutti quei popolari, di tutti quei cattolici che sono stati marginalizzati e allontanati, sia dalle formazioni politiche di sinistra che dalle formazioni politiche di destra, per ripartire dai territori e dare una speranza che queste idee e questi valori possono essere trasmesse ai nostri giovani e che possono contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Nel PD rientra Bersani, rientra Speranza, usciti perché il PD era troppo di centro ed oggi si trovano a casa loro in un partito di sinistra. Noi costruiamo una nostra area per continuare ad essere orgogliosamente quello che siamo sempre stati.